E do subito la parola a Giovanni Russo Spena per il prossimo intervento. Buongiorno a tutti e tutti. Oggi è il Nevroz, cioè la giornata della purificazione del fuoco della libertà per i kurdi. Io sono il loro portavoce italiano, quindi sono costretto, tra l'altro, e mi fa molto piacere a coordinare i lavori di una delegazione del Rojava, che è qui in Italia, qui a Roma, con la sua capacità di spiegarci cosa sia questo confederalismo democratico avanzatissimo. Io credo anche per noi europei, da studiare, da ricercare, da prendere come esempio, e quel femminismo antipatriarcale, anticapitalista, che appunto le donne, le compagne del Rojava ogni giorno riescono, in uno stato peraltro di guerra, di guerra imperiale, a portare avanti. Quindi faccio solo tre osservazioni, in cinque minuti, tre osservazioni brevi. E sono d'accordo con le osservazioni che facevano anche poco fa Fausto, Fausto Pertinotti e ora Alfonso, Alfonso Gianni. Siamo di fronte appunto a guerra e diseguaglianza. In maniera grave, siamo, è un po' il fondo del barile che stiamo laschiando e ne dobbiamo essere preoccupatissimi. Cito soltanto, a prima osservazione, alcuni episodi di questi giorni, il documento del Consiglio d'Europa, Michel che cita il motto addirittura, si vis pacem parabellum, che diventa quindi quasi un imperativo categorico, è il motto del colonialismo dell'impero romano. Breton e Ursula von der Leyen che espressamente parlano e scrivono di economia di guerra, cioè lo stravolgimento, sappiamo cosa è, adesso lo spiegava anche Alfonso, lo stravolgimento del sistema economico, produttivo, finanziario, che significa appunto innanzitutto e da subito, come da adesso anche il ministro Crosetto, ha spiegato qui da noi in Italia, militarizzazione dell'industria europea. Noi avremo bisogno di Canadair, appunto, come sappiamo bene, non ambientalisti contro gli incendi boschivi, sono pochissimi e gli incendi crescono, eppure invece avremo caccia militari supersonici. Il settore bellico, in primis appunto la Leonardo, che va già molto bene, basta leggere gli ultimi articoli tionfali anche del Sole 24 ore in questi giorni, avrà molti, molti, molte risorse pubbliche sottratte quindi dallo Stato sociale. Questo è un primo tema appunto politico, sociale, narrato per titoli ora in questo momento, ma su cui credo noi dovremo anche i prossimi giorni, i prossimi mesi, rinsaldare maggiormente anche la nostra cultura del conflitto sociale specifico in questa fase, come dire, bellica o prebellica. Secondo punto, appunto, collegato è il rafforzamento del complesso militare industriale europeo, che mi interessa anche come giurista, che è soprattutto un problema democratico. Non ho qui, abbiamo scritto altre volte, detto il tempo di approfondire, ma chi guadagna dalla guerra, insomma questo è il punto, banale, è semplice, avrà interesse ad influenzare il dibattito pubblico per avere più guerre e più lunghe guerre. Qual è l'obiettivo infatti di un aumento forte di spese militari, rincorrere gli USA nella loro ambizione imperiale, anzi ricostruire un imperialismo europeo e qui, appunto, qui però c'è uno scollamento nel quale noi dobbiamo inserirci, certamente anche se soltanto a livello di opinione pubblica e non oggi di capacità di organizzazione, ma c'è uno scollamento fra il mainstream e i popoli che vorrebbero appunto terra e pace, vorrebbero appunto in qualche modo, insomma, partecipare in maniera democratica a una costruzione della pace. E per inciso, perché c'è anche un problema istituzionale parlamentare, ricordo che in Italia stanno facendo a pezzi in Parlamento le destre, il governo, la legge 185 del 90, la legge che è voluta da Nigrizia, la missione oggi da beati costruttori di pace, da Pax e Cristi, eccetera, che molto appoggiamo, che regola l'import-export degli armamenti. E voglio anche ricordare altri episodi di cui ci parlano continuamente in questi giorni in cui giriamo nelle scuole occupate delle nostre città, soprattutto di alcune metropoli, Roma, Napoli, eccetera, ci spiegano appunto le ragazze, soprattutto le ragazze molto combattive e i giovani che occupano. Voglio ricordare che l'educazione al militare sta entrando profondamente nelle scuole, è un fenomeno poco conosciuto, ma di cui dobbiamo interessarci, e anche nelle università. Ci sono corsi accademici gestiti dalla fondazione Med.Oro Leonardo, intorno appunto alla concezione, si vis pacem parabellum, quanto è bello l'esercito professionale che va in guerra. Terzo punto, appunto la guerra è l'economia, veniva detto poco fa, e l'uso della Banca Europea degli investimenti potrebbe essere riposizionato appunto nella prospettiva del mercato unico della difesa, dando priorità agli appatti congiunti, come la chiamata Ursula, con The Lion, come se le armi appunto fossero vaccini. Paolo Gentiloni, sappiamo, non so se passerà, ma comunque Paolo Gentiloni, il commissario europeo dell'economia, ha inoltre ipotizzato il ricorso agli Eurobond per finanziare un piano di riarmo da 100 miliardi l'euro l'anno. Quarto punto, la guerra, sto finendo, mi interessa molto, la guerra è pedagogia di massa, è come il premierato, è delega assoluto al potere, al capo di un popolo inerte, quindi guerra e premierato camminano insieme, è educazione all'ordine, all'obbedienza passiva, l'ordine di servizio è cancellare appunto la scuola di Don Milani. La situazione è peggiorata, io penso, è l'ultima osservazione che faccio, fra Genova 2001 e Pisa 2024, le mangalennate agli studenti, per due circostanze. L'impunità assoluta, dettata dal Presidente del Consiglio e dall'attuale governo, e la normalità con cui un funzionario di polizia, non dimentichiamolo, in divisa, può dichiarare Mattarella non è il mio presidente perché non l'ho votato io. Ecco, vedete come la tendenza alla guerra e alla repressione si collega al premierato. Ecco, questo mi preoccupa molto. Un'ultima osservazione è un'ultima frase, come ha dichiarato la Milaglio Bauer, che ne sa più di noi, altissima carica militare Nato, l'altro ieri, ha dichiarato testualmente, per molti decenni abbiamo avuto l'idea dell'esercito professionale che avrebbe risolto tutti i problemi di sicurezza, ma dobbiamo sapere che per una difesa collettiva gli apparati militari attuali non sono più sufficienti, vi è bisogno di più gente che sostenga gli eserciti, di una società quindi che si metta in guerra. Ecco, questo è il nuovo maccartismo. Vi ringrazio quindi di questa assemblea molto importante, centrata su questi punti. Io credo appunto che il piano della lotta pacifista e della lotta per la Costituzione, una lotta per una democrazia popolare, sia una lotta congiunte è molto molto importante. Vi ringrazio. Grazie, grazie. L'applauso della sala e vi ringrazio per rispettare.